Che cos'è il passato se non un fiume che passa ma rimane? Tra Attrezzo e Milano il Naviglio Martesana scorre dal 1471 verso il vostro tempo. Deviando dall'Adda il canale portava cose, persone, idee in braccio alla corrente. La risalita era traino di buoi, cavalli, operai. Me ne ricordo bene io che fui camparo di questa regia camera. Fin dal 1542 qui era la casa del custode, eletto per dosare le acque e riscuotere il dazio sul Martesana. Guai se le quote irrigue attinte al canale lasciavano in secca la navigazione. Alle mie finestre saliva il canto di marinai e lavandaie. Con i barcaioli sedevo al cammino di casa perché ad alzarsi fossero i brindisi. Ospitavo anche pittori o ingegneri i cui calcoli sostenevano gli argini. Quando passavano i barconi, le donne intente al bucato si ritraevano per evitarne l'onda. Prima che dighe e ponti disciplinassero il fiume Adda, ero io a custodirne le correnti. Dall'alzaia godetti persino l'onore di tirare una delle funi lanciate a riva dalla fastosa imbarcazione su cui viaggiava verso Milano la duchessa Elisabetta Cristina, futura imperatrice. Era il 30 maggio 1708. Eppure, se davvero il tempo scorre come i fiumi, risalirlo è impossibile. Le mie parole sono solo echi. Io, camparo della regia camera eretta a Vabrio, riposo nelle azzurre tombe dell'Adda. Mentre tutti gli altri rendono il proprio nome alla terra, a me piacque di consegnare il mio all'acqua.